Andrà in onda oggi sulla nostra emittente il cortometraggio Viola Strappata, lavoro cinematografico scritto da Simona Brucculeri per la regia di Simona Brucculeri e Gioprestia, realizzato quattro anni fa e incentrato su un tema di grandissima attualità, la violenza sulle donne. L'appuntamento è intorno alle ore 16 su Telemonte Cronio. Viola Strappata nasce da un'idea che ha avuto la mia collega storica di lavoro, Simona Brucculeri, che un giorno mi ha chiamato e mi ha detto senti guarda ho questa sceneggiatura tenendo conto anche del fatto che io sono un appassionato videomaker, gioco in realtà perché non l'ho mai definito un lavoro fino in fondo e mi ha chiesto lo possiamo fare, abbiamo la tempistica, l'attrezzatura per poterlo fare? Ho detto perché no, proviamo. E devo dire che come primo lavoro il risultato è stato buono, insomma. È chiaro che ogni cosa è migliorabile ma noi volevamo in ogni caso lanciare questo messaggio e tenere sempre alta la soglia dell'attenzione sulla violenza sulle donne che purtroppo è un qualcosa che ancora siamo ben lontani dall'aver sconfitto ma forse perché probabilmente ci vuole molta attenzione anche da parte di noi uomini cioè nel senso non è una lotta che possono vincere soltanto le donne ma anche la parte buona perché fra di noi ci sono anche dei maschietti buoni, diciamo così, quindi persone che si possano impegnare monitorando anche un po' il comportamento di quei soggetti che nella società vanno poi a far parte di pagine di cronaca tristissima insomma che ben sappiamo. Ecco, Viola strappata è un faro, un faro puntato sul femminicidio. Viola strappata è la storia di Viola, una ragazza piena di speranza il cui grande sogno, quello di cantare, la porterà a vivere la terribile esperienza della violenza sessuale esercitata su di lei dall'uomo che le offre il lavoro sognato. Quando ci sono queste occasioni, quindi prima fra tutte quella dell'8 marzo riteniamo utile insomma che questo faro si riaccenda sulla donna io credo che la festa della donna potrà essere chiamata tale soltanto quando sarà stato, spero, del tutto eliminato insomma il femminicidio. Il monito è denunciare e non subire per non essere calpestate nella dignità, violate nel corpo e nella mente ma è più strappate come un fiore dalla sua terra. Abbiamo puntato proprio su questo tipo di violenza, quindi a sfondo sessuale sono tantissime purtroppo le donne che vengono molestate, stuprate, violentate, uccise a causa anche di amori sbagliati. Quindi mi sono sentita in dovere appunto di scrivere di questo e per cui è nato appunto Viola Strappata. Un lavoro che vantaggia diverse partecipazioni a festival cinematografici e che oggi in occasione della festa della donna sarà trasmesso da Telemonte Cronio. Io mi auguro un giorno di non proporre più Viola Strappata, sinceramente come donna lo dico però come ha detto giustamente il mio collega storico è un faro puntato contro la violenza proprio per continuare a incoraggiare tutte quelle donne che vivono nel terrore, che vivono in silenzio questo orrore. E quindi il messaggio è quello di denunciare, è la sola arma che abbiamo. Un'ultima cosa, volevo ringraziare voi di Teleradio Montecronio per l'occasione che insomma ci avete dato. Il film praticamente ha fatto un bel giretto sia nel circondario, poi siamo arrivati anche a Latina con una proiezione grazie all'associazione L'altra Sabaudia di Marina Brucchetti e a parte questo dico ringrazio voi come TV per l'occasione che ci date e in modo particolare ringraziare Massimo D'Antoni perché nel 2014 Massimo D'Antoni praticamente ha tenuto a battesimo questa prima proiezione che è andata allo Shaka Film Fest.